Vi ringrazio veramente di essere venuti e venute, per noi è un'occasione importante e ovviamente vorrei ringraziare il circolo dei lettori per l'accoglienza, per l'organizzazione, vorrei ringraziare la Camera di Commercio di Torino e il Presidente Dario Gallina che oggi ci fa l'onore di essere qui per essere stata la persona che ci ha dato lo stimolo per organizzare questi eventi al circolo, l'assessora Chiara Foglietta, l'assessora all'innovazione che alla fine insieme a Dario darà un commento su quello che sentirete questa sera e ovviamente anche il partner Leading Law con cui stiamo organizzando questi eventi. Avete visto il tema, prima di addentrarci vorrei dirvi qualche cosa dell'Italian Cultural Content Industry che è l'associazione che ha organizzato questo ciclo di eventi, vedete che sono tre, ci sono gli altri due e l'associazione Italian Cultural Content Industry è la prima associazione in Italia che mette insieme tutti i professionisti e le imprese che producono contenuto. Fino adesso siamo molto parcellizzati su vari fronti e invece secondo noi, secondo le imprese e i professionisti che hanno deciso di fondare questa associazione è molto importante che noi lavoriamo insieme, è molto importante che costruiamo internazionalizzazione, digitalizzazione, formazione, network e business e anche che impariamo a descriverci come comparto perché ancora non siamo percepiti come tali e invece siamo un comparto super strategico per il paese. Ci sono dei materiali che voi potete trovare sulle sedie così potete approfondire se volete e poi naturalmente sono felicissima di presentare gli ospiti che saranno il vero core della serata, sono persone super esperte e devo dire per fortuna anche super divertenti quindi mi auguro che sarà appunto una serata molto interessante. Quindi presento Emanuela Mazzucchetti che è la referente iconografica della casa editrice Loescher, Giuseppe Pescarmona che è un digital humanist, se produco Giovanni scusami, e che lavora con il Ministero della Cultura, Irma Ceramella, avvocata specializzata in diritto dell'arte, esperta, esperta in diritto dell'arte, Francesca Cassone, partner di Leading Law e Mauro Bennici che è un esperto di nuove tecnologie e rapporti tra intelligenza artificiale ed etica. Prima di passare loro la parola vorrei solo fare una premessa velocissima per chi come me non ha una competenza specialistica in modo che capiamo bene di che cosa stiamo parlando e di che cosa parliamo quando parliamo appunto di diritto d'autore, di proprietà intellettuale eccetera. Mi corre l'obbligo di dire che io ho iniziato, qua è un aneddoto personale, ho iniziato a occuparmi di plagio in lo tempore quando ho scritto la mia tesi di laurea perché non so se sapete che Stendhal, cioè uno dei più grandi scrittori del mondo, era un plagiario, tanto che la prima opera che lui ha scritto che si chiamava Vita di Haydn di Mozart e Metastasio è stata presa in parte da un autore italiano che si chiamava Carpani che aveva scritto appunto La vita di Haydn che l'ha inseguito tipo in tutta la Francia, in tutta l'Italia per cercare di farsi riconoscere che appunto che il libro era stato rubato ma non è mai riuscito a farsi né riconoscere i diritti né riconoscere che era stato plagiato eccetera. Il vizietto Stendhal ce l'aveva e quindi in effetti nella mia tesi di laurea io ho potuto dimostrare che lui aveva rubato, plagiato tantissime citazioni da moralisti francesi. Perché ve lo racconto questo al di là dell'aneddoto personale? Perché ai tempi in cui mi sono laureata io, cioè sto parlando di Romolo e Remo, non c'era internet, era soltanto agli albori e quindi che cosa è accaduto? Che io ho dovuto imparare a memoria più di 2000 citazioni e di fatto non c'erano strumenti e il plagio è stato scoperto 200 anni dopo che l'autore l'aveva compiuto. Ovviamente adesso le cose sono molto molto cambiate, plagiare è diventato molto più facile chiaramente ma anche essere scoperti quando si plagia. Ci sono anche le università ormai che hanno degli algoritmi per cui verificano molto rapidamente se le tesi di laurea sono state plagiate. Quindi il tema è ancora super caldo. Le due cose che sono le due direttive su cui anche i relatori racconteranno sono la prima riguarda il fatto che appunto da un lato noi viviamo in un sistema culturale in cui la circolazione massima delle informazioni è importante, anzi direi fondamentale per la produzione di cultura. Quindi da un lato abbiamo bisogno di far circolare il più possibile le informazioni in contenuti, di rielaborarle in continuazione. Dall'altro abbiamo un tema opposto cioè riconoscere la proprietà e riconoscere i diritti di sfruttamento economici eccetera delle persone che invece producono quella cultura perché se quelle persone non possono campare a un certo punto diciamo tutta la macchina si ferma. Quindi il primo asse di cui poi vi parleranno i nostri relatori riguarda proprio questa duplice tendenza una verso mettere tutto in comune l'altra verso proteggere. Le innovazioni tipo proprietà intellettuale, diritto d'autore eccetera sono invenzioni relativamente recenti fatte proprio appunto per proteggere gli artisti e chi produce contenuto. Il secondo asse di cui poi i colleghi vi parleranno riguarda il fatto che la produzione di un oggetto, di culturale, materiale o immateriale si è distinta sempre più rispetto all'ideazione. Questo per via di innovazioni anche tecnologiche, ma parlo per esempio delle prime stampe soltanto, la riproduzione non era più una riproduzione lenta, era una riproduzione molto più veloce e questo ha significato che l'avvento delle tecnologie ha generato una grandissima possibilità di produrre repliche, copie, plagio eccetera, di fatto facendo perdere il controllo a chi aveva prodotto quel contenuto rispetto a tutto quello che invece appunto circolava relativamente a quell'opera. Quindi anche questa distinzione tra chi ha ideato, chi produce fisicamente, chi fruisce è diventata sempre più complicata. Ma ora non perdo altro tempo e vi presento appunto la prima relatrice, Emanuela Mazzucchetti, che ci racconterà che cosa fa tutti i giorni in casa editrice. Allora, piacere, siamo pronti a iniziare questo viaggio che davvero sarà, andrà sempre più in profondità nella tematica del diritto d'autore. Allora, per arrivare subito al punto proviamo a immedesimarci in quello che può essere il lavoro di ricerca e di pubblicazione di un'immagine. Partiamo. Devo pubblicare un'immagine. La prima domanda che io mi devo porre, chiunque io sia, è come la uso questa immagine? Allora immaginiamo tre scenari, proprio per arrivare in fretta al punto. Il primo scenario è la uso per uso personale. Devo alimentare il mio blog, sono magari un insegnante, creo delle schede didattiche, utilizzo liberamente le immagini che voglio. Primo esempio, uso personale, sono il proprietario di un'azienda, devo organizzare un webinar, oppure devo mettere qualcosa sulla mia intranet aziendale. In questi tre casi, che io metto da una parte, non ho scopo di lucro. Teniamolo lì, come faceva a Lucarelli. Teniamolo lì, ci servirà dopo. Secondo caso, editoriale. Lo uso perché devo fare la copertina o illustrare un interno di una pubblicazione cartacea, oppure digitale. Scopo di lucro, perché io non sono una onlus, perché in qualche modo o ci metto un prezzo a quel prodotto, o in maniera indiretta alimento la mia immagine di azienda che vive di un guadagno, e quindi ho scopo editoriale, fine lucro. Terzo caso, commerciale, scopo commerciale. Ci metto dentro la pubblicità, ci metto dentro il merchandising e sto andando verso un climax ascendente di gradi di pericolosità, chiamiamolo così, o di attenzione. Se volessimo visualizzare questo concetto è un semaforo. Metto il verde nel primo scopo personale, non di lucro. Metto il giallo, attenzione, consapevolezza, attenzione a come mi muovo, nella scopo editoriale, metto un bel rosso, massima attenzione, nello scopo commerciale. Questo è il primo scenario. Dove trovo l'immagine? Questa è la seconda. E qui, nella pratica, chiunque di noi abbia lavorato un po' con le immagini, oggi i lavori, si sentirà dire, o lui stesso si dirà a se stesso, frasi di questo tipo che vi racconto. Da dove mi viene l'immagine? L'ho trovata su internet. Guarda, io ho messo su Google, ho scritto il tema che volevo, è pieno. E poi è ripetuta mille volte. Prima frase. L'ho trovata su Wikipedia, l'ho trovata su Instagram. Oppure, guarda, siamo a posto, non ti preoccupare quando mi portano le immagini, non ti preoccupare perché l'ho comprata da agenzia, siamo a posto. Secondo caso. Terzo caso, non c'è problema, è mia, l'ho fatta io, oppure me l'ha data lui, è il mio amico, oppure metto quest'opera d'arte, ma non ti preoccupare perché ce l'ho a casa, non più raro, ma magari ho il poster, ho il poster di Morandi, Giorgio Morandi, e ho anche Gianni, ma non lo sappiamo, non si può sapere, non si potrà sapere. Però dietro questi luoghi comuni si nascondono infinite insidie. Allora, vediamo se riesco a far funzionare questa. Bene, iniziamo, prima di andare a vedere dei casi concreti perché così riusciamo a capire qual è la vera pratica, facciamo, dobbiamo per forza avere due nozioni di quello che è la legge del diritto d'autore, proprio due e due, via la teoria sarà subito eliminata. Allora, dobbiamo ricordare che ogni fotografia reca con sé almeno due diritti. Il diritto del fotografo che ha creato la fotografia, che ha scattato la fotografia, il diritto del soggetto che viene ritratto, dove per soggetto non intendo soltanto se c'è una persona, e attenzione anche quello poi crea tutta una serie di implicazioni, per ora lasciamone da parte, ma di ciò che costituisce il soggetto della fotografia, può essere un paesaggio, può essere un monumento, può essere un'opera d'arte, un'architettura. La seconda importante nozione da tenere presente quando maneggiamo una fotografia è che la legge del diritto d'autore ci distingue tra semplice fotografia e fotografia con intento artistico, creativo. Vi faccio un esempio, la semplice fotografia è un oggetto della cultura materiale che è una riproduzione tecnicamente ineccepibile da professionista, documentaria. Facciamo degli esempi, un documento proprio, la pagina di un manoscritto, il frontespizio di un libro, un quadro. Sono stata un pochino più prudente nel dire un quadro perché ci sono anche lì delle implicazioni, ma sto cercando di evidenziare delle opere che sono delle opere, anche un paesaggio, dove io semplicemente mi limito, io che sono il fotografo, mi limito a documentare la cosa che ho davanti senza, facendo un buon prodotto tecnico. Proviamo a chiarirlo andando a vedere l'altro aspetto, la fotografia con intento creativo artistico. È un po' soggettivo, ma la legge lo ammette questa cosa, indirettamente te lo dice, è un po' soggetta anche in caso di sede giudiziaria, qui mi muovo con circospezione perché ci sono fior fior di avvocati, ma in sede giudiziaria questo discrimine tra artistico e non artistico è un po' lasciato all'interpretazione. Cosa vuol dire artistico? Vuol dire che il fotografo, il creatore dell'opera, ci ha messo del suo, ha voluto interpretare l'opera, ha voluto trasmettere qualcosa. Esempio, un ritratto di una persona con una luce, quindi usando degli strumenti tecnici a sua disposizione, ma va oltre quella che è la semplice fotografia, magari con una luce, con un'esposizione particolare, usando un obiettivo, vuole cercare di interpretare quello che è il sentimento della persona o magari in un paesaggio, magari a seconda di come lo inquadri o a seconda dell'esposizione, che dai, puoi dare maggiore drammaticità. Per un monumento ho una scultura, opera tridimensionale, di là avevo messo quadri, opere mono bidimensionali. In un caso riproduco tecnicamente molto bene e cerco di non alterare i colori, di usare le righe dritte, insomma, uso un banco ottico. Nel caso dell'opera tridimensionale magari mi posiziono in basso, la interpreto. Questo è fotocreativa. Perché è importante questa distinzione? Perché la legge mi dice che se è una semplice fotografia la tutela del diritto d'autore, cioè del diritto di chi ha creato l'opera, è vent'anni dalla data dello scatto. Tengo lì. Se è una fotocreativa la tutela è settant'anni dalla morte dell'autore della fotografia. Allora, io ho il diritto del fotografo e il diritto di ciò che è ritratto nella fotografia. Le due cose sono entrambe da tenere sotto controllo. Adesso purtroppo l'intervento si interromperà perché non saprò far funzionare questo. Vai. Donne e tecnologia. Vai. Questo tasto qua avanti. Taglio tutto. Eccomi qua. Allora, ho portato, proprio per fare degli esercizi tutti insieme, delle fotografie, ma proprio le più miste, miste, volutamente miste, volutamente diverse. Allora, facciamo subito chiarezza, poi bene obiezioni, eh, su foto creativa e foto non creativa. La seconda foto, liberté d'expressione, l'ho fatta io, vabbè, e così il diritto del fotografo me lo gestisco io. Metropolitana di Parigi, mi sono messa dritta, non ho aspettato neanche che ci fosse un'inquadratura magari con un passante per cercare di dare un po' di espressività a sta foto. L'ho fatta in fretta, mi interessava il fatto che sotto il cartello di libertà d'espressione ci fossero i graffiti. Si potrebbe andare a discutere, il graffiti è arte, non è arte, non è questo il tema. Io ho documentato una situazione, punto. Foto direi non creativa, adesso senza nulla togliere, ma non è proprio creativa. Eh, vent'anni della durata. Andiamo là in basso, siamo a Francoforte. Questa è una fotografia di un monumento a Francoforte, di un monumento che è presente a Francoforte, di Claes Oldenburg, morto luglio 2022. Eh, qui abbiamo un doppio caso. La fotografia, secondo me, esprime qualcosa, perché questo monumento non è visto interamente, quindi non è documentario di com'è strutturato, com'è sto basamento, dove è messa, in che incrocio è. No. È per significare che Francoforte è la città degli affari, la città della banca europea, l'uomo d'affari, il manager, la cravata. Buon, questo l'ho fatta io. Vabbè, di nuovo. Claes Oldenburg, quindi soggetto, io vent'anni dallo scatto della fotografia. No, perché io gli do un'interpretazione, gli ho dato un'interpretazione. Passiatemela, facciamo che sia 70 anni dalla morte. Ma il soggetto ritratto è un'opera d'arte di un artista contemporaneo. 2022, lui, la sua opera, è sotto tutela. Sbaglierei. Mettiamo che io avessi trovato questa immagine, che io abbia uploadato questa immagine su internet. Non mi interessava avere uno sfruttamento economico di questa immagine. La uploadavo sotto una licenza che internet mi permette di dare e che è la creative commons. Bye. Quindi io volevo soltanto che mi si riconoscesse il nome. Usi questa foto, dici che è mia. Ma se io, dall'altra parte, voglio pubblicare questa foto, non conoscendo la storia di questa foto, vedo che il fotografo ha lasciato la sua licenza libera. Ma l'opera l'arte no. Quindi sbaglierei a pubblicarla, o meglio, incorrerei in una possibile sanzione. devo riconoscere, devo mettermi a riconoscere di chi è l'immagine, devo andare a liberare i diritti per quell'immagine. Come faccio? Devo contattare l'artista. Molti artisti dell'arte contemporanea, e non dal Novecento in poi, sono tutelati da SIAE. La tutela coinvolge tutti gli artisti che la cui morte non è anteriore ai 70 anni. Quindi diciamo che sono liberi da questa tutela se sono morti entro il 1952 adesso, perché sono 70 anni. Andiamo oltre invece. La prima foto è una foto, è una riproduzione di un quadro senza cornice, è Toulouse-Lautrec, è l'ippodrome, è una foto che risale a fine ottocento. Nel gobbo avevo scritto le date giuste, ma poco conta. È un'opera in pubblico dominio, perché sono trascorsi 70 anni, è un'opera conservata alla Buffalo Gallery in stato di New York, è in pubblico dominio. Devo andare a controllare, prima di poterla pubblicare liberamente, devo valutare chi è l'ente museo, fondazione, privato, pubblico, non importa, chi è che la tutela, la ospita, ne cura la conservazione, il bene culturale. Questo museo, quale esso sia, può o meno, anche se l'opera in pubblico dominio, imporre un'ulteriore tariffa, un'ulteriore, si traduce poi in tariffa obiettivamente, ma un'ulteriore tutela. Andiamo oltre. L'oggetto di cultura materiale, così smettiamo con l'arte, il Mangiadischi. Mangiadischi è un Penny, 1970, l'ho messo perché, attenzione, anche lì si può, questa l'ho presa da internet, ma praticamente tutte le ho prese da internet, fedele alla prima frase che ho detto, le prendo da internet. L'oggetto della cultura materiale tendenzialmente è una semplice fotografia, questa è una riproduzione documentaria di un qualcosa. Attenzione, in questo caso sono libera di usarla, però cosa ho controllato prima di usarla? Chi è il designer? Oppure c'è un designer dietro alla creazione del Penny perché siamo nel 1970, quindi siamo ancora dentro al diritto d'autore. Non l'ho trovato, l'ho cercato, domanda che mi resta, il dubbio sistematico è, ho cercato bene? Spero. Non ne farei un uso commerciale senza aver liberato questo tipo di dubbio, chiarito questo tipo di dubbio. La Joy Division, dai così, facciamo, e questo ci permette di parlare di una cosa. Copertina di un disco, 1979, è sfruttata nella copertina che è diventata iconica, se ne sono fatte magliette, merchandising, eccola lì, è sfruttata una fotografia pubblicata sull'American Scientific in quegli anni ed è il segnale di una pulsar, una stella di neutroni che è esplosa nel 69, ha lasciato quest'onda radio. È carino perché è la storia di questo, perché è il little green man one, è il piccolo mino verde, anche se sapevano che era un segnale assolutamente naturale, non artificiale, perché non aveva la caccia, sarebbe stato interessante, ma c'era un po' la caccia all'exterrestre, questa curiosità che abbiamo ancora adesso, questa certezza che però non è convalidata ancora da nessuna prova di cui noi siamo a conoscenza, Joy Division, il grafico, nel dover lanciare questo disco, questa musica che aveva anche di misterioso, che infatti poi è diventata estremamente famosa, ha voluto usare questo segnale. Ha potuto farlo perché le immagini, ancora adesso, le immagini della NASA sono libere da diritti, le immagini di Hubble, le immagini del web telescope che c'è, che ora sta producendo immagini spettacolari, sono ufficialmente libere e pubblicabili, perché questa è la politica dello Stato americano, in generale non solo le immagini della NASA, ma anche le immagini dei musei, del Met, del Metropolitan, eccetera. Anche un minuto, sì, sì, ok, ma ci siamo quasi. Lai in alto, Giacomo Balla, il macaco, adesso arrivo, allora, chiudo solo la frase, Giacomo Balla, tutelato sia, è morto dopo il 52, i fumetti, è solo per dire che anche per immagini e per utilizzo di immagini, anche i disegni e anche i fumetti sono chiaramente tutelati, non ci si deve rivolgere appunto alla, in questo caso, per i PINAS è la United Pictures Syndicate. Cosa vuol dire questa cosa? E adesso passiamo a questa, eccolo, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che ogni prodotto dell'ingegno umano, ogni contenuto, ha dietro qualcuno che l'ha creato, muoversi liberamente andando a fare propri in qualche modo il contenuto, perché io nel momento in cui utilizzo quell'immagine la faccio mia, nel senso che la sfrutto perché la inserisco in un altro contenuto. È operazione meritoria, perché la diffusione della cultura, la diffusione delle idee, internet, lo scambio, la condivisione, ma va fatta appunto nel rispetto del copyright. Questa è una provocazione legata al titolo della conferenza, di chi sono davvero i contenuti. Questa foto è l'autoscatto del macaco. Siamo nel 2011, David Slater, un naturalista inglese, parte e va in un centro di assistenza recupero di macachi in Indonesia. È un servizio fotografico pagato, una cosa che succede assai di rado, però lui aveva rimborso spese, questo è importante, serve nella storia. Fa fotografie, passa le sue giornate, a un certo punto lascia il cavalletto della macchina fotografica con l'autoscatto, col filo dell'autoscatto, lo lascia in campo aperto, si allontana, si avvicinano questi macachi, curiosi come dei macachi, e scattano. Ci sono decine e decine e decine di scatti che si imprimono nella macchina fotografica. Quattro cinque sono bellissimi, questo è il più bello di tutti, ed è stato al centro di una controversia giuridica che si è chiusa sei anni dopo, nel 2016, al Tribunale di San Francisco. Perché? Cosa succede? Succede che l'associazione animalista, che era alle spalle di questa operazione di fotografia per raccogliere fondi, per poter alimentare la loro attività, di tutela dei macachi, fa propria la fotografia, la uploada su Wikimedia. Io l'ho trovata per caso, poi questa è stata al centro di notizie, vertenze giuridiche, quindi non è che ho scoperto l'acqua calda, però al momento io dovevo fare una copertina di un libro per le medie di scienze. L'ho trovata proprio su internet e mi è piaciuta tantissimo, era in alta risoluzione, non succede mai, questo devi insospettire, però quando in alta qualche trucco c'è, perché sennò sarebbe troppo bello. E non l'ho usata perché ho iniziato a capire che c'era dietro, approfondendo, quindi eccolo lì, bisogna sempre approfondire, che c'era una storia dietro. E la storia era che David Slater, l'autore della fotografia, no, il proprietario dell'attrezzatura per la fotografia, l'autore era il macaco. Ma il macaco è una persona giuridica? Sì, no, prima causa. David Slater ha potuto dire, ma io vivo di questo lavoro, ho creato io le condizioni, ho avuto io l'idea di fare questo. Era molto borderline, ve la spoiler alla fine, è successo che dopo lunghe, lunghe, complesse storie è stata un po' chiusa a pari patta, perché David Slater è tornato proprietario, da Wikimedia non c'è più l'alta risoluzione. Lui ha perso però un sacco di introiti, perché questa immagine è stata a sei anni e è diventata vecchia, nessuno più la voleva, è ritornato in possesso dei diritti per ogni vendita da una percentuale del 35% al fondo, quindi l'hanno finita così. Allora, grazie. Abbiamo capito tre cose, credo. Allora, la prima è che abbiamo capito che occuparsi di diritti, in questo caso solo delle immagini, non abbiamo parlato della musica, non abbiamo parlato dei testi, è già un ginepraio notevole. La seconda è che finiremo tutti arrestati, soprattutto noi che usiamo Instagram. Prima o poi qualcuno ci fa causa, causa personale, speruma. L'altro punto interessante, il motivo per cui ci è piaciuto tanto questa storia del macaco, è che è un esempio pratico di come uno strumento e un attore possono essere disgiunti e quindi questo crea dei grandissimi problemi di attribuzione. Ma visto che abbiamo parlato tanto di opere d'arte, sculture, storie dell'arte, eccetera, mi sembra giusto lasciare la parola a Giovanni Pescarmona che ci racconta un po' meglio, ecco, quali sono invece le criticità dal suo punto di vista. Scusate, allora, buonasera a tutti, eccomi, cercherò di stare nei tempi per quanto possibile. Grazie mille dell'invito e in questo intervento che hai appena fatto c'è in nu c'è un po' tutto il problema, no? Ma è veramente servito su un piatto d'argento il tema del patrimonio culturale digitale con con, fra parentesi, perché creare il patrimonio culturale digitale vuol dire reinterpretarlo, quindi con si fa il. E vi porto tre spunti di riflessione. Allora, il primo è non solo diritti d'autore, perché il copyright è solo una delle sfere che, diciamo, vertono sulle riproduzioni digitali dei beni culturali. In Italia esiste il codice dei beni culturali, il famoso codice urbani del 2004, che contiene tutta una serie di norme che disciplinano tutto a 360 gradi l'ecosistema culturale, dalla tutela alle attività di valorizzazione, danno forma a quello che è il sistema dei musei, degli archivi e delle biblioteche in Italia, e articolo 107 e 108 parlano anche di quelli che sono i limiti, i vincoli, le possibilità per il riutilizzo, a seconda di quelle casistiche che tu hai giustamente nucleato, no? Quindi anche inquadrando quello che è il diritto d'autore, inquadrando quelle che sono le diverse metodologie con cui si acquisisce un'opera d'arte, perché fare la foto con il proprio telefono o farla con un'attrezzatura professionale cambia già all'inquadramento giuridico. L'Agi Digital Library del Ministero della Cultura ha prodotto un piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, che invito a tutti a leggere, è un documento molto interessante, molto ricco, molto articolato, è corredato da cinque linee guida, una in particolare delle quali tratta in modo specifico di questi argomenti e cerca di fare chiarezza su quella che è la legislazione. A legislazione invariata cerca di fare chiarezza su quelli che sono gli ambiti che effettivamente vanno considerati a seconda dell'uso della tipologia del bene, perché qui stiamo parlando naturalmente di ministero, quindi di beni pubblici, che nella stragrande maggioranza dei casi sono in pubblico dominio. Quindi il pubblico dominio che cos'è? Diritti d'autore scaduti. Aveva fatto riferimento ai quei 70 anni dalla morte dell'autore, finiti i 70 anni dalla morte dell'autore si entra nel pubblico dominio. Quindi quando voi pensate a l'immagine del museo che voi volete riprodurre, sempre per stare nelle analogie, sulla sportina per fare del denaro, voi non lo potete fare, ma non perché dovete pagare i diritti d'autore a Leonardo da Vinci, ma perché il bene è di proprietà pubblica e c'è il codice dei beni culturali che disciplina le modalità di riutilizzo dell'immagine. Il punto è che siamo nel contesto digitale, quindi le persone fanno le cose, ma le macchine ne fanno anche tantissime e quindi non c'è dato senza metadato. Che cosa sono i metadati? I metadati sono i dati sui dati, sono i dati che accompagnano i dati. I file sul computer, click destro, proprietà, quelli sono metadati. Sono informazioni sulle immagini, sui file, sui testi e sono al cuore del problema dei dati nel ventunesimo secolo, terzo millennio e tutte le decine di migliaia, milioni di anni che ci aspettano, che saranno sempre più digitali e in cui le complessità legate ai dati andranno ad aumentare. Il dato di qualità è un dato che è corredato da un metadato di qualità e nel metadato ci sono le chiavi che permettono di utilizzare i dati nel modo corretto. Tra queste chiavi ci sono anche quelle dei diritti, che non sono solo diritti d'autore. Quindi, sempre nei casi d'uso che avevi definito, se un'immagine è ben fatta, io online la scarico e dentro l'immagine trovo i metadati che mi dicono che cosa posso farci con questa immagine. O le piattaforme online mi permettono di leggerlo, perché questi metadati vengono letti dal visualizzatore e poi vengono presentati in una forma human readable, quindi leggibile per noi macacchi evoluti. Però lo devono poter leggere anche le macchine, quindi i metadati devono essere human readable e machine readable. Qui entriamo in un tema di complessità crescente e per la complessità, per gestire la complessità, servono le competenze. E quindi è molto importante questo aspetto che poi credo sia un po' la soluzione a tutti i problemi del mondo, cioè impariamo di più, formiamoci meglio. Certo, non possiamo fare tutto subito, è un percorso senza fine e servono delle nuove competenze. Queste nuove competenze sono competenze che non esistono perché dobbiamo ibridarci. Partiamo con gli aneddoti, no? Io dieci anni fa ero in questa sala, studente di economia e commercio, sentivo i professori di storia dell'arte, mi appassionavo, poi ho cambiato, sono passato a fare lo storico dell'arte, ho ripreso economia e digitale. Quindi capite quanto le competenze si stanno... e adesso sono qui a parlare di diritti d'autore, cioè quindi capite. È tutto un mondo che si unisce, dove i confini sono sempre più blurred, sono sempre più sfumati, ma non perché diventiamo dei generalisti tuttologi che non conoscono nessun contesto, ma perché il digitale riontologizza il presente e quindi ci costringe a ripensare agli schemi e ci costringe a reimmaginare delle forme di inquadramento della realtà che soltanto 20, 30, 40 anni fa non ci causavano problemi. Perché una casa editrice 20, 30 anni fa non doveva porsi il problema... se lo poneva, cioè non si doveva porre il problema di... oh Dio, ma questa immagine la possono trovare potenzialmente tutti pochi istanti dopo che viene scattata se io la pubblico. E credo anche che dal punto di vista culturale questo sia molto importante perché non c'è una primazia della competenza digitale o della competenza culturale in questo discorso sulle competenze che interessa moltissimo le imprese, perché le imprese devono dotarsi di queste figure se vogliono essere competitive. Difatti le imprese che hanno maggior successo sono quelle che hanno saputo dotarsi all'interno dei loro organici di figure che sapessero poi coniugare questi due aspetti, che avessero gli strumenti umanistici. Perché i filosofi lavorano tantissimo oggi anche nel campo dell'intelligenza artificiale? Perché, e inquadro perché conosciamo tanti filosofi che lavorano in questo campo, perché hanno gli strumenti per decrittare domande, per porre le domande in modo giusto. Quindi io forse questa sera non ho risposto tanto delle domande ma cerco di dare il contesto. Quindi io vi saluto, ho finito, facendovi vedere, questi siamo noi no? Una conferenza a Torino in Italia dipinta nello stile del rinascimento. Questa è un'immagine che ho fatto io per mezzo di Dalì, cioè di un programma di intelligenza artificiale. Riflettiamo sulle parole. L'ho fatta io per mezzo di Dalì o l'ho fatta Dalì per mezzo mio? Chi lo sa? Chi lo sa. Chi è il macaco? Chi è il macaco? Ecco, volevo anche dire a proposito di sfruttamento di materiali eccetera, che non so se sapete ma di recente proprio gli uffizi hanno fatto causa a uno stilista francese, l'Anven, penso che sia, perché ha utilizzato la venere di Botticelli, forse Gautier, ok, perché ha utilizzato un pezzo della venere di Botticelli su un abito. Quindi questa cosa per introdurre Irma Ceramella ha delle conseguenze legate alla complessità, alla gestione delle imprese ma anche delle conseguenze legali che adesso andiamo a vedere più nel dettaglio. Ebbene, dunque buonasera a tutti, intanto grazie Marzia e soltanto una rassicurazione, avete letto esperta di diritto dell'arte, rassicuro gli amici, insomma continuo a fare anche il mio lavoro di diritto a società, insomma tutto il resto che ho sempre fatto, ma unisco la passione a questa nuova competenza perché giusto per l'appunto anche il mondo del diritto si adegua a una realtà che cambia alla velocità della luce e che vede coinvolti tantissimi aspetti della finanza, dell'arte, ormai vediamo l'asta di Christis della collezione di Paul Allen ha totalizzato non so un billion e non riesco neanche a dire quanto perché sono cifre davvero straordinarie. Detto questo colgo la palla al balzo perché di Giovanni e anche di Emanuela che insomma con tanta competenza e con tanta precisione hanno delineato uno scenario molto complicato, complesso, difficile da indagare spesso e dove si annidano e ecco dove si annidano spesso dei ladri, ladri di contenuti, ladri di content e quindi inizio con questa immagine che tutti conoscete della caccia al ladro con la Grace Kelly e Cary Grant. Allora, a chi appartiene davvero il contenuto? Perché spesso il contenuto non è così, il contenuto, l'opera, di chi è il diritto, a chi è riconducibile, a chi è ascrivibile il diritto d'autore? Spesso non è così banale e da luogo, come anche la collega avvocata, ben sa, se no Marzia poi mi picchia, da luogo a delle carelle, una delle quali, ecco, una delle quali è quella, ne parliamo dopo, la mettiamo là, come dice Emanuela, che ha dato origine un po' a questo incontro di questa sera. Caccia al ladro, un grande, uno tra i più grandi artisti, pittori e non solo, Pablo Picasso diceva i buoni artisti coppiano, i grandi artisti rubano, no? E quindi rubano che cosa? Contenuti, idee, le fanno proprie, le rimescolano un po' nel loro immaginifico mentale, nella loro mente e poi le danno un output e spesso questo output è complicato. Cerco di andare veloce, spero di essere veloce ma non frettolosa e quindi guardo più che mai, no? Steve Jobs a quello che diceva Picasso, almeno che ci dicono, dicesse Picasso, aggiungeva e noi non ci siamo mai vergognati di rubare le grandi idee. Peraltro piccolo aneddoto che ci porta anche un po' a Torino, quando Steve Jobs andò in Pennsylvania, la Xerox, che era una grande, diciamo, azienda informatica, con questo Larry Tesler, riuscì in qualche modo a farsi mostrare vendendo qualcos'altro, dicendo se tu mi fai vedere cosa state facendo, io ti faccio investire un milione di dollari, mi pare che fosse allora, erano gli anni 70, un milione di dollari in Apple e questa cosa letto Tesler che gli aprì le porte, o meglio gli aprì i file del computer e di questo appunto suo, di questa sua rivoluzionaria interfaccia grafica, adesso diciamo coloro che sono più sicuramente informatici e più capaci di me sapranno bene, che era una sorta di programmazione orientata agli oggetti e la visita di questo, di Steve Jobs fu definita come la più grande rapina della storia dell'industria, perché da quel momento Steve Jobs, come dire, fece propri della Apple questa interfaccia grafica e riuscì a creare quella che poi tutti noi conosciamo, delle icone sul desktop che si muovono, che si possono trascinare, ma questi erano appunto gli anni alla fine degli anni 70. Mi piace ricordare un'altra cosa di Steve Jobs a proposito di design, di un furto, di un furto o comunque di una, che ho letto da qualche parte, forse leggendo di Olivetti, che lui fu molto colpito in questa Aspen International Design Convention di Aspen da alcuni nostri grandi designer diremmo, da Mario Bellini, Giorgetto Giugiaro, Sergio Pininfarina e lui venne ad Ivrea a visitare la Olivetti e volle conoscere Mario Bellini che fu l'artefice del design dell'oggetto, era la prima volta che si poneva attenzione al design di un oggetto, Olivetti lo fece prima di tutti con la lettera 101, giusto? Credo, sono in ritardissimo, già ho la prima slide, vado avanti, scusate, niente, basta, andiamo avanti, non diciamo niente, però sarebbe carino invitare una volta Giorgetto Giugiaro a raccontarci questa storia. Che cos'è la creatività? Per Einstein era l'intelligenza che si diverte, per Steve Jobs era connettere le cose fra di loro, per la radice storica latina, sanscrita anche, car, la creazione è l'uomo faber, è l'uomo che fa, no? Va bene, vi salto l'articolo 1 che non ce ne importa, a chi appartiene davvero l'opera? Il caso Cattelan che è cecaro perché è diciamo lo stimolo che ha dato un po' l'input a questi nostri tre talk diciamo. Dunque caso Cattelan, Cattelan autore di tante opere d'arte, tante sculture, fra cui la nona ora, il famoso meteorite che colpisce sulle gambe direi sul corpo Giovanni Paolo II, la nona ora non ve lo spiego perché è troppo lungo, poi Him che è, ecco, ho rubato da web due foto per uso personale, no? Alla fine ci sono tutti i credit, cioè credit by, cioè ecco. E quindi Him è particolare perché noi lo vediamo ed è questo, sembra un ragazzo inginocchiato in questo, con l'occhio di bue che gli fa questa lone di luce intorno, sicuramente una situazione quasi mistica, no? E quando lo spettatore, il visitatore diciamo entra in questa sala è portato a commuoversi, a comunque a muoversi, a compassione, no? Sul paziente, cioè patire con. Peccato dunque, questa stessa opera battuta a 17.2 milioni di euro nel 2016 da Christis. Quest'opera però davanti è, diciamo, raffigura un Hitler, un Hitler ragazzo, bambino, ma la faccia non è neanche così bambina, realizzata in cera e resina e altri materiali da questo scultore francese che si chiama Daniel Drouet. Ma naturalmente nessuno di noi, no? Ha mai sentito parlare di Daniel Drouet? Chi è costui? Ecco, lo scultore nel 2000 è direi 21, in realtà ho scritto 22, ma secondo me è 21, cita in giudizio non immediatamente Cattelan, ma cita in giudizio il gallerista, tale appunto Perotin, e lo spazio espositivo, in realtà il museo dove si era svolta la mostra Not Afraid of Love, in cui fu esposta fra le altre questa scultura, sono in ritardo, in questa scultura, chiede un risarcimento da quattro e mezzo, poi diventa, insomma, chiede un risarcimento cospicuo per non essere stato citato come l'autore materiale di queste sculture. Ebbene sì, intercorreva, era intercorso in realtà a tempo prima, perché la prima scultura è del 2001, credo, ma dal 99 era intercorso fra i due, cioè fra Cattelan e fra il Drouet, un rapporto di commissione, cioè un rapporto vero e proprio, contrattuale, no? In cui Cattelan, che è incapace di disegnare, di scolpire, di schizzare, di fare alcunché, diciamo di concreto, non è un homo faber, non è uno che usa, come dire, che riesce a creare grazie, diciamo, neppure con l'algoritmo, ad oggi si dice, non lo so, ma magari potremmo invitare anche lui. Ecco, e quindi Cattelan gli aveva fornito delle specifiche tecniche, diciamo così, dando la suggestione, le misure, l'atteggiamento, eccetera, eccetera. E, diciamo, questo contratto, evidentemente non scritto così bene, perché se fosse stato scritto da noi, sicuramente la querel non sarebbe sorta, questo contratto aveva previsto anche un corrispettivo, dunque la cosa era liquidata. Invece no, perché, come dire, perché in realtà, ve la faccio breve, la Corte dichiara inammissibile la domanda, perché in realtà Drouet non cita, quindi per una ragione processuale, perché non aveva citato direttamente in giudizio Cattelan, che fu chiamato in manueleva solo dal, diciamo, dal museo. E però la Corte non si esime dall'entrare un po' nel merito e sostanzialmente, ecco, no, questo era, e sostanzialmente, questa era un'altra cosa, Alighiero Boetti, era come se le donne afghane, che hanno materialmente, come dire, un altro caso precedente, naturalmente, Alighiero Boetti, lo conoscete tutti, è colui che, diciamo, realizza queste opere, realizza idea di queste opere, le disegna, fa degli schizzi, che sono poi tessute a mano, che sono state tessute in Afghanistan negli anni 70, direi, da un gruppo di donne bravissime, aveva creato una specie di factory come quella di Warren a New York e nessuna però di costoro si è mai sognata di convenire in giudizio Alighiero Boetti. Ecco, la sentenza quindi dichiara inammissibile la domanda di Daniel Drouet, che è quel signore che ha 80 anni, neanche un bravo artista, no, ma sancisce fissa un principio che è particolare in realtà, che divulgazione vuot titre, cioè che il fatto di, che è un po' cozza con quello che hai detto, cioè voglio dire, no, bisognerebbe aprire un tavolo su questo anche, no, perché potresti usarlo come precedente, che la divulgazione, in realtà non la mera divulgazione, adesso non mi, non voglio darvi troppe technicalities, però diciamo che chi avendo in realtà alle spalle anche un, diciamo, un contratto come aveva in realtà Cattelan e poi divulga quest'opera diciamo assumendose nella paternità, alla fine, diciamo, ha un titolo valido per farlo e niente, quindi bene, però qui c'era il Lady Diana, a un certo punto indossa il Revenge Dress, dopo essersi separata dal, da Carlo III, oggi re d'Inghilterra, il Drouet fa questa, io l'ho ribattezzata, Revenge Sculpture, perché raffigura quello è Cattelan che esce fuori dall'uovo, no, come un chicken, un little chicken e la, diciamo, l'opera si chiama Cuckoo, non fu commissionata da Cattelan naturalmente e in realtà mostra, dice Drouet, riguarda questa mia opera l'arte concettuale in cui altri artisti fanno fare il lavoro ad altre persone, come dire, cioè il ladro è lui, ecco, è solo questo, voglio solo dire questo, che in realtà tutto questo nasce dall'arte concettuale, come dire, no, laddove il concept, l'ideazione, l'idea è ritenuta più importante della realizzazione, della realizzazione concreta. Velocemente, passando, diciamo, scissione, diciamo, tra la titolarità dell'autore, del diritto in capo all'autore, materiale e, diciamo, scissione di queste due titolarità del diritto e materiale esecuzione dell'opera. La questione viene posta anche in relazione alle opere digitali realizzate attraverso gli algoritmi. Questo, per esempio, qui accanto, questa, voi la vedete qua, io la vedo qua perché così vado più veloce, e questo è il ritratto, è un ritratto che si intitola di Edmond Bellamy, di un collettivo francese, of you, prodotta grazie a questo GAN, che è una sorta di algoritmo neurale, no? Ecco, questa è la firma in basso, è la firma del, diciamo, dell'opera, ed è, praticamente, riproduce l'algoritmo. Accanto vi ho messo quello del San Giovanni De Collato, lì c'è scritto Michelangelo, ma è Michelangelo Merisi, Caravaggio, lo sapete meglio di me, e qui c'è l'algoritmo. In questo caso chi è l'artista? Anche qui c'è una scissione potenziale fra titolarità del diritto, tra chi crea l'opera e chi ne è l'autore. Chi è l'autore? Il collettivo dice se l'artista è colui che idea il concept, allora siamo noi, come dire, collettivo. Se invece l'artista è chi materialmente, come dire, crea l'opera, e allora sicuramente è l'algoritmo. E va bene, qui sempre guarda i ladri e torniamo a bomba. Grazie. Ecco, diventa, se già era difficile per un macaco definire la sua proprietà, adesso che è un algoritmo ancora più difficile, no? Mi spiace, la sintesi l'ho detto, l'ho detto, e Valeria Ferrero che lì l'ho anche scritto non è la mia virtù, quindi mi spiace questa carrellata velocissima, ho detto un ventesimo. Per le avvocate è difficile. Mi piace. Adesso ci sarà un algoritmo che scorcia gli interventi. In realtà esiste. Un'intelligenza artificiale. Dico bene che fai riassunti più o meno. Quindi vedi, è una svolta tecnologica. Allora adesso magari approfondiamo un po' più il tema introdotto da Irma rispetto proprio agli sviluppi tecnologici, quindi Francesca Cassone ci racconta qualcosa di più specifico. Sì, buonasera, grazie. Allora io sono un'avvocata e quindi mi limiterò in questo contesto a dare qualche spunto di cornice legale. Parto da una categoria che, da una categorizzazione che a noi giuristi è molto cara, che è quella tra beni fungibili e beni infungibili. Vecchia come il cucco, diciamo fondante di metà del traffico commerciale. Quindi la distinzione tra beni fungibili e beni infungibili. Perché parto da lì? Perché mi sembra molto utile e illuminante rispetto a un contesto come questo che discute dell'impatto e degli effetti che le nuove tecnologie hanno sull'industria culturale, l'industria dei contenuti e quindi sulla tutela dell'autore. Allora le norme in materia di diritto d'autore hanno retto sostanzialmente bene alle evoluzioni della società civile fino più o meno alla fine del secolo scorso, al 99, quando è arrivata Napster a diffondere il meccanismo del peer-to-peer che ha ovviamente generato il panico rispetto alla tutela dei diritti degli autori. È evidente che da quel momento in poi tutto ciò che poteva essere tradotto in un bit è diventato di immediata diffusione, circolazione incontrollata, riproducibilità sequenziale a bassissimo costo worldwide per cui ben oltre i confini nazionali ovviamente provocando plurime violazioni del diritto autorale che come è stato detto prima è il motore poi della crescita dell'industria culturale. Cosa succede? Da circa 15 anni dopo la tecnologia invece delle blockchain consente e qui torno alla mia categoria giuridica del bene infungibile, prima individua il bene digitale non riproducibile col bitcoin. Attenzione che irriproducibile non vuol dire infungibile, il bitcoin, il token non è riproducibile così come non è riproducibile la banconota fisica che ha un numero di serie e lei e non può esserne un'altra ma sono beni che non interessano per il numero di serie o per il codice alfanumerico che portano, per il loro valore e quindi sono fungibilissimi, cioè ne esiste un tantundem e sono scambiati proprio per il loro valore arrivano gli NFT, cioè appunto il non fungible token che sono invece dei beni digitali, non vi sto a dare ovviamente definizione anche perché io in informatica non sono e quindi raccolgo quello che leggo da giurista con la mente del giurista, comunque il concetto è che rappresentano, appartengono al genus degli utility token sono dei token che rappresentano beni unici, una certificazione di unicità attraverso ovviamente il meccanismo della blockchain quindi con un controllo di certificazione solidissimo. Ora, tant'è vero che se noi avessimo tanti NFT in tasca non li sommeremmo ma dovremmo elencarli perché ognuno appunto individua un bene specifico. Ora, dov'è che gli NFT hanno avuto grande... nascono nel mondo del collezionismo nel 2017 questa azienda, questa società statunitense che per prima creò circa 10.000 NFT che rappresentavano delle figurine inizialmente da scambiare gratuitamente poi portate su una piattaforma, su un marketplace costituito dalla stessa società e poi diventati rappresentati ovviamente ognuno da un NFT quindi con un'unicità e poi scambiati con i loro valori di mercato sulla piattaforma. Ma è nel mercato dell'arte che poi l'NFT ha avuto la sua esplosione anche perché è stato oggetto di transazioni clamorose la famosa asta di Christie dell'artista Beeple frenetica partita da 100 euro di base d'asta di quest'opera digitale nativa digitale e nel giro di pochi minuti è arrivata ad un valore di vendita se non sbaglio di 70 milioni di dollari quindi una roba travolgente che ovviamente ha catalizzato subito l'attenzione del mondo intero. non è solo... poi gli NFT nel mondo dell'arte hanno fatto poi il salto di specie cioè dal rappresentare opere native digitali sono passate a rappresentare anche opere analogiche tradotte digitalmente e poi portate in NFT la prima se non mi sbaglio in Italia è stata la Galleria degli Uffizi a digitalizzare il Tondodoni in scala 1 a 1 e poi a trasferirlo appunto in un NFT che poi è stato venduto per se non sbaglio 70 mila euro acquisiti dal museo. però ecco, fuori dal mondo dell'arte l'NFT nell'industria dei contenuti diciamo ha tantissime altre applicazioni nel mondo dello sport adesso ci sono questi fan token che portano, rappresentano tutta una serie di, come posso dire, di benefit che ha il titolare di quell'NFT che è un tifoso e che ha diritto per esempio a partecipare a delle chat a dei forum specifici a tutta una serie di vantaggi che gli derivano dall'avere la proprietà di quell'NFT. Ora, vado velocissimo nel mondo della musica ci sarebbe da citare tanti progetti di cui uno qua del del torinese Busta che tutti conosciamo dei Subsonica che ha varato un progetto in cui vende commercializza un NFT che rappresenta con la collaborazione di un artista croato che rappresenta una serie di performance artistiche sue e dà diritto al titolare dell'NFT pensate addirittura di godere di una performance live dell'artista quindi quante sono le implicazioni degli NFT nel mondo della circolazione dei contenuti ora, per il giurista l'NFT pone un primo grandissimo problema che cosa si trasferisce con l'NFT? Allora, questo si basa sull'equivoco il dilemma nasce dall'equivoco corrente di pensare che l'acquirente dell'NFT compri i diritti di sfruttamento diciamo così, i diritti di copyright escluso certamente i diritti morali che come sapete tutti non sono indisponibili non sono commerciabili ma i diritti patrimoniali di sfruttamento economico dell'opera allo Stato se non è disposto diversamente no chi compra l'NFT compra la proprietà del bene rappresentato da quell'opera di cui l'NFT è la certificazione di autenticità e di provenienza nulla di più e nulla di meno perché dico se non è detto diversamente perché la frontiera nuova e qui poniamo problemi ma diamo anche soluzioni e sta negli smart contract che sono poi il cuore del token che sono le istruzioni di utilizzo e anche sono letteralmente le clausole contrattuali che cosa si può fare che cosa non si può fare oggi ancora abbastanza poco specifiche potenzialmente possono diventare istruzioni iper specifiche come sono iper specifici i contratti del mondo analogico mettiamola così lì dentro si dirà che cosa il titolare dell'NFT ha e che cosa non ha se ha un diritto di sfruttamento uno riproduzione due diffusione tre comunicazione tutti solo alcuni se non è disposto diversamente è proprietario di quel bene così come quando io compro un libro sono proprietaria di quel libro quella roba lì e basta non di tutto il resto che circola attorno al libro ci sono dei casi abbastanza interessanti ma poi magari ne parliamo quando facciamo il caso Basquiat il caso Tarantino la causa di Tarantino con la Miramax che si è mi risulta conclusa con un accordo transattivo adesso no? nel mi sembra settembre scorso 2022 il cui contenuto ovviamente è ignoto a tutti e che se volete poi daremo qualche spunti così come mi piaceva concludere al di là di questa tecnologia particolare che è particolarmente sfidante per la tenuta del diritto d'autore ma che in realtà fino ad oggi lo sta aiutando ad uscire da un'unpass creata dal digitale dalla riproducibilità del digitale vi è un'altra tecnologia interessantissima e così ti passo la palla e ti do l'abbrivio per il tuo intervento che riguarda l'intelligenza artificiale è evidente che dal macaco che è considerato uno meno intelligente lo possiamo dire senza no? dell'essere umano si passa a quello più intelligente di noi per quanto generato da noi voi sapete che con il meccanismo del machine learning l'intelligenza artificiale è in grado può essere in grado di creare contenuti creativi attraverso l'apprendimento allora quando ciò avviene il diritto oggi si domanda se è possibile una tutela autoriale e poi eventualmente anche brevettuale anzi direi che la tutela brevettuale che esce da questo contesto ma in realtà è quella più dibattuta se l'intelligente artificiale possa essere titolare del diritto dell'opera dell'ingegno o dell'innovazione e ancor più se possano essere a lui attribuiti i diritti di sfruttamento economico dell'opera al di là della paternità poi eventualmente approfondiamo perché il tempo è finito secondo me sono molto interessanti questi spunti che date perché danno un'idea di come sta evolvendo il mercato di come stanno evolvendo i consumi anche perché pensare di acquistare un'opera d'arte tipo NFT magari dieci anni fa non ci avrebbe pensato nessuno ma anche come alla fine c'è questa parcellizzazione di vari tipi di uso che cosa ne faccio quali sono i diritti eccetera quindi avrete moltissimo lavoro in futuro su chi può fare cosa esattamente ma chi può fare cosa che cosa può fare l'intelligenza artificiale adesso abbiamo un esperto che ce lo racconta quindi Mauro Bennici la parola aspettiamo le slide eccoci qua buonasera a tutti sono Mauro Bennici e fondamentalmente nasco come tecnico mi occupavo di intelligenza artificiale prima che tre anni fa mi trovasse all'interno di uno dei gruppi di lavoro per la comunità europea proprio su etica dell'intelligenza artificiale quindi uno di quei gruppi di lavoro in cui poi arriva quello che sono le linee guida dell'intelligenza artificiale in Europa è arrivato l'EIACT e fino a due giorni fa ho partecipato a quello che tra un po' diventerà una delle varie leggi su come verrà punito chi non rispetta l'EIACT quindi non soltanto cosa può fare l'intelligenza artificiale ma anche tutte le varie modi in cui si può fare causa o l'intelligenza artificiale e qui facciamo un piccolissimo escursus per i bimbi quindi chi se c'è un tecnico chiude gli occhi non faccia finta di non aver visto di che cosa parliamo quando parliamo di Deep Learning quindi questa tecnologia di cui abbiamo sentito tanto parlare che ha cambiato il mondo ma in realtà funziona in questo modo abbiamo un database dove ci sono tantissime in questo caso delle immagini prendiamo un'immagine scomponiamo questa immagine e i pallini di questa immagine non fanno altro che diventare l'input della nostra rete neurale questa rete neurale questi pallini cosa fanno? vanno a cadere attraverso questi imbuti e questi imbuti applicano delle semplici operazioni matematiche e decidono se uno di queste palline può andare avanti non può andare avanti o dove deve muoversi fino ad arrivare a queste qui che sebbene sono delle classiche etichette scritte in Klingon che noi tutti parliamo giornalmente ma proprio per dare l'idea che l'intelligenza artificiale non ha una più pallida idea di quello che sta facendo noi potremmo tranquillamente chiamargli questi un, due, tre per l'intelligenza artificiale andrebbe bene perché a cosa attinge? attinge un nostro database in cui noi abbiamo detto che questo è Adalaba quindi il nostro cane questo è il nostro Mang Om il nostro gatto e questo è Ushghed che è il nostro uccellino attraverso il suo apprendimento andrà a cambiare le operazioni che lui ha fatto qui per fare in modo che effettivamente l'uccellino corrisponda all'uccellino questo vuol dire anche che potrà sbagliare ma che se noi adesso mettessimo dentro una bella immagine di uno scoiattolo lui ci direbbe che o è un cane o è un gatto o è un uccellino non può in nessun modo dirci che è qualcos'altro quindi quando noi parliamo di immagini generate in realtà sono questi Deep Learning a cui noi abbiamo dato tantissime immagini fino ad arrivare a questa immagine qua questa immagine qua è un'immagine che ha vinto un concorso fatto per pittori digitali e vinto questo concorso il pittore ha detto guarda che in realtà non sono io che lo ho fatto ma ho utilizzato un algoritmo ne ha utilizzato in realtà una ventina e molto più per arrivare a questa immagine e lì si è aperta una bella discussione cioè a livello del poteva farlo o non poteva farlo quindi sono andati a vedere sul contratto se c'era scritto deve partecipare qualcuno che ha più di 18 anni ed è un essere umano perché ad oggi manca la dicitura tra le altre cose lui ha voluto farlo apposta e lui per farci partecipe ha detto lo ha fatto con intelligenza artificiale noi ad oggi non sappiamo quante altre opere siano state vendute classificate siano in mostra che in realtà sono state fatte da qualcun altro quindi a livello di plagio magari qualcuno lo ha copiato lo ha rubato qualcun altro oppure lo ha generato completamente da zero o con un algoritmo o con n algoritmi e qui poi c'era anche la problematica allora a chi appartiene? noi pensiamo che adesso questa sia una problematica recente in realtà è già successo nel 1964 in Svezia un pittore burlone vedendo che determinati scimpanzee dello zoo di Stoccolma piaceva disegnare ha scelto quello che secondo lui era più bravo che effettivamente fa erano bellissimi quadri stile Pollock cioè proprio con rabbia e li ha presi all'interno di una mostra dove c'erano tantissimi altri pittori e lui è stato scelto tra quelli più belli quindi poi è finito fuori dice guarda che l'ha fatto uno scimpanzee i critici sono sentiti offesi e molti altri hanno detto ma guarda che a me piace a me veniva in mente la famosa frase di Troisi nel postino quando parla con Neruda e dice sì ma la poesia è di chi gli serve cioè non è tua e questa era molto dice a me piace l'opera non mi interessa se l'ha fatta lo scimpanzee o se l'ha fatta un'intelligenza artificiale in quel caso i diritti è stato anche lì un casino se lo sono divisi tra chi è il proprietario dello zoo e tra chi lo ha portato in mostra se non che adesso anche a livello dell'animale è successo un altro casino in molti stati è possibile lasciare la propria azienda lasciare i propri beni a un animale se io posso lasciare i miei beni a un animale è l'animale che è il proprietario di quell'opera o è chi gestisce i beni che diventa lo sfruttatore di quell'opera la problematica è che adesso con l'intelligenza artificiale stanno arrivando a più non posso e arriviamo a Bruce Willis Bruce Willis adesso è malato ha detto che si ritirerà ma è riuscito alla notizia in cui lui ha venduto il proprio viso per poter essere usato nel metaverso per essere usato nel deepfake ha venduto la sua voce voglio dire ok voi potete continuare ad utilizzarle però in realtà i diritti vanno a me perché è la mia faccia tutto questo ci porta ad un'altra considerazione quando noi parliamo di algoritmi abbiamo visto che abbiamo bisogno di una base dati negli anni questa base dati non è che è nata da zero cioè per poter addestrare un deepfake come qua ci mostra Jim Carrey che fa Shining ho bisogno di centinaia di migliaia di volti quello che è successo fino a qualche anno fa è che questi volti venivano rubati a tutti noi c'erano degli algoritmi che si andavano a spulciare tutti i siti web tutte le foto che avevamo e ci rubavano i volti rubavano i volti andavano a leggere inconsapevolmente totalmente inconsapevolmente anche consapevolmente molte volte noi quando firmiamo un contratto diciamo ah sì tutto poi magari andiamo a leggere e c'è scritto stiamo cedendo l'utilizzo lo sfruttamento e poi andavano a leggere anche chi siamo come ci chiamiamo dove abitiamo e quindi in realtà facevano una correlazione anche di quanti anni abbiamo e li usavano per addestrare all'inizio era solo per dimostrare la tecnica cioè mi serve perché sto facendo ricerca quando questo adesso è diritto di sfruttamento perché vengono venduti questi algoritmi questi algoritmi hanno dei costi chi ci ha mai pagato? nessuno cioè ad oggi nessuno ci è mai venuto a dire ne facciamo parte quando questo è accaduto cosa è successo? moltissime delle aziende del pubicorp hanno cancellato i loro database sulle facce Microsoft AWS hanno cancellato perché non riuscivano più a garantire che lì dentro non ci fosse effettivamente arrivato di tutto preso assolutamente senza rispettare nulla di qualche giorno fa è stata fatta la causa a Microsoft Microsoft ha creato un'intelligenza artificiale che automaticamente aiuta gli sviluppatori a scrivere codice lo ha fatto leggendo tutto il codice che c'era nel proprio repository su GitHub e dice soltanto quelli che sono pubblici però non ha rispettato la licenza moltissime licenze dice che se prendi un codice mi devi dire che l'attribuzione è mia o chi lo sta usando deve dare liberamente quel codice non sappiamo come andrà a finire la problematica di Microsoft è grossa perché proprio per come funziona un'intelligenza artificiale noi abbiamo grandissime difficoltà a sapere una volta che abbiamo questo risultato da come ci siamo arrivati cioè non lo sanno neanche loro perché quando si studia all'università è molto semplice ne abbiamo tre o quattro facciamo i calcoli a mano e facendo i calcoli a mano puoi vedere se è giusto o sbagliato quando noi parliamo di GPT-3 quindi chi ha generato questo testo parliamo di un'intelligenza artificiale con 185 miliardi di parametri andarli solo a guardare uno a uno è suicidio solo il pensarlo il nuovo GPT-4 avrà 10 trilioni di parametri cioè è tutta potenza di quello che possiamo elaborare ma non ci stiamo dietro e quello che abbiamo detto con le immagini questo è anche un testo cioè il testo che noi vediamo qua è un testo che ha scritto un essere umano e ha fatto questa domanda a un'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale ci ha anche preso in giro ha detto noi come intelligenza artificiale non siamo pericolosi per voi ma siamo sicuri che voi ci programmerete talmente male che noi vi faremo del male grazie e questo è molto interessante perché dice ah ma perché sì sì è divertentissima quasi spaventosa perché il problema è dicendo ma l'intelligenza artificiale non può essere il diritto perché non c'è una coscienza bellissimo se qualcuno mi sa definire cos'è una coscienza io ascolto cioè ci siamo rienti quei filosofi etici neuroscienziati non lo sa nessuno e qui dice ah bellissimo andiamo avanti ritorniamo sempre alla nostra bella cosa qui lo vediamo che sono solo calcoli matematici però se facciamo una risonanza magnetica possiamo anche vedere che noi siamo un po' di cervello con degli impulsi elettrici e non abbiamo niente a cui appigliarci e quando noi parliamo che non abbiamo niente è anche bello che adesso c'è chi sta provando a inquinarti i datasette di queste persone noi sappiamo che noi abbiamo donato tutte queste cose quando abbiamo fatto abbiamo fatto uno strap e abbiamo detto ah come sarà da vecchio come spunto come faccio in realtà abbiamo donato abbiamo donato abbiamo donato talmente tante le immagini che adesso il sito questa persona non esiste basta mettere quell'indirizzo lì e lui ci genera a caso una faccia nuova cioè questa persona non esiste è stata generata al volo in qualche secondo da un'intelligenza artificiale a cui poi è stato passato un altro algoritmo per dire ma secondo te quanti anni ha oppure mi cambi lo stile mi fai vedere questa intelligenza in un modo addirittura nuovo quindi la cosa che fa ancora più paura è che ci hanno rubato tutti i dati ma probabilmente in futuro non ne avranno più bisogno perché sono bravi a farseli da soli se li generano da soli non ce ne hanno più bisogno di quello che noi possiamo anche solo dire e tanto non lo sapremo mai cioè almeno che non si vada proprio a cercare dentro quel dataset e andare a vedere che effettivamente questo accade una delle problematiche in comunità europea adesso è come li uso questi algoritmi cioè perché andare a controllare che un dataset creato in Cina è sviluppato negli Stati Uniti rilasciato in Europa nella mia app in Italia di chi è la colpa? cioè a chi faccio causa? cioè ad oggi è la prima problematica per cui non ci sono auto che guidano da sole in California non è un problema tecnico perché già ci sono delle auto che guidano da sole sono già partite le sperimentazioni già qualche anno fa con Google che già dava le auto per una fondazione di non vedenti ma c'è un non vedente che sale in macchina e dice voglio andare la macchina parte e se fa un incidente chi paga? cioè ad oggi non abbiamo in giustizia la società l'azienda lì non lo sa nessuno e nessuno si è preso ancora la briga di dirlo oltre al fatto che se facciamo delle cose differenti immaginiamo in Italia c'è una legislazione in Francia ce n'è un'altra e alla dogana mi fermo ad aggiornare la macchina quindi ormai queste tecnologie che sembravano fantascienza ormai in realtà sono fra di noi cioè ormai noi li abbiamo queste tecnologie che in realtà abbiamo visto la parte su cui stiamo dibattendo perché in realtà ne abbiamo tantissimi usi oggi possiamo vedere qualcuno che sta parlando e vediamo i sottotitoli in tempo reale la tecnologia è praticamente la stessa abbiamo quello che fa la trascrizione ho visto di recente qualcuno che mentre si parla viene animato un avatar che fa il linguaggio dei segni in automatico possiamo aiutare persone con disabilità che non riescono per esempio a comporre le parole è la macchina a dare un aiuto sia vedendo il movimento sia adesso anche ascoltando parte del cervello l'ultimo esperimento ascoltando la parte del cervello è stata addestrata per riconoscere 300 parole che è un altro tema etico mostruoso cioè perché vuol dire che potenzialmente alcune parti del nostro cervello registrano la stessa parola fino al controllo del copyright in cui ci sono adesso anche delle macchine che combattono contro le macchine quindi c'è la macchina a cui tu chiedi di fare il sommario di creare un testo che poi va a controllare sulle macchine che ti dicono se hai il copyright fin quando effettivamente l'altra macchina gli dice no è originale prova e riprova cambio la forma della frase cambio la parola metto il sinonimo e prima o poi dall'altra parte mi diranno è assolutamente originale fin quando quelli dall'altra parte aggiorneranno il software contro il copyright diranno no no lo ha copiato perché insomma siamo ancora a guardie ladri ancora sì 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 facciamo sempre a guardie ladri infatti una delle tecnologie più complicate una di intell che è stata annunciata proprio ieri che riesce a riconoscere deepfake quindi tutti proprio da parte dei video in cui qualcuno si muove non dalla faccia in sé ma dal fatto che quando noi ci muoviamo o più parliamo riscaldiamo in maniera diversa il sangue che ci scorre sotto quindi va a cercare i segni che effettivamente sia stato creato del sangue quindi chi fa deepfake ora si sta concentrando a generare anche la parte sotto per ingannare la macchina che adesso li scopre questa parte secondo me è molto interessante perché abbiamo parlato di tantissimo di risvolti etici ma il fatto di poter creare immagini usando le facce di altri o video anche ho visto di recente rende sempre più difficile per noi audio anche come cittadini no? riuscire a individuare che cos'è vero e che cosa non è vero sì sì ma sì ma noi potremmo vedere un video di una persona che parla che fa esattamente gli stessi movimenti che fa esattamente gli stessi gesti e non sapere se sia vero o false ora che ci hai spaventato abbastanza vorrei vorrei diciamo ringraziarvi per questo giro tantissimo grazie e mi sembra anche molto interessante perché avete espresso delle competenze che secondo me sono delle competenze insomma di alto livello vorrei invitare il presidente Dario Gallina se ce la fa ancora dopo dopo questa a dire due parole a proposito di che cosa sta facendo la Camera di Commercio per il settore dell'industria del contenuto insomma so che state facendo delle mappature delle altre cose insomma interessanti e anche se lo desideri chiaramente un commento su tutto quello che hai sentito ma innanzitutto grazie buonasera a tutti è un piacere essere qui complimenti non vorrei neanche sfiorare i temi che avete toccato vista la competenza e anche la complessità mi fa piacere come Camera di Commercio ovviamente sostenere questi talk questi incontri perché il settore editoriale per noi è un settore importante la Camera di Commercio è un ente pubblico e dentro ci sono tutte le anime dell'economia tra cui tutti i settori e quindi l'editoria con le sue 3.500 imprese qua in Piemonte 17.000 persone che ci lavorano è una cosa importante quindi avvicinare anche non solo la cultura e l'impresa ma anche i contenuti tu Marzia mi hai raccontato molto di quello che fa e farà IC quindi ci fa molto piacere essere qui e poi il tema della cultura quindi ma anche del lavoro che c'è dietro della conoscenza di quello che il territorio esprime in questo settore noi sosteniamo non solo il circolo il circolo dei lettori ma il salone del libro quindi abbiamo tante attività di sostegno della cultura anche come eventi proprio oggi ieri abbiamo firmato un protocollo con le fondazioni il comune e la regione per un festival della fotografia per esempio un nuovo festival internazionale della fotografia qui a Torino un altro evento importante che cerchiamo di portare qui quindi questa è l'attività un po' camerale poi facciamo anche cose un po' più noiose che sono quelle dell'ente pubblico del registro delle imprese dello sportello dei brevetti dei marchi quindi tutto il frame in cui c'è all'interno del dato il dato è una cosa che grazie anche i Focamere che è una grossa società che gestisce tutto il registro delle imprese quindi siamo custodi dei dati anche di diritti e di informazioni quindi siamo molto interessati al tema del digitale perché il digitale è una delle missioni della Camera di Commercio soprattutto verso le piccole e medie imprese e quindi facciamo attraverso i nostri punti di imprese digitale molte attività che riguardano la digitalizzazione quindi molto interessante diciamo il framework che c'è intorno al dato e siamo molto interessati a come si evolve questo specialmente per le piccole e medie imprese per difendere i piccoli esercenti per esempio nel commercio stiamo facendo abbiamo fatto una comunità digitale che si chiama Digitale Sotto Casa proprio perché vogliamo portare avvicinare le piccole e medie imprese gli esercenti del commercio della ristorazione verso il digitale proteggendo però la loro sfera cioè l'integrità del dato che loro rappresentano con la loro eccellenza e il loro know-how nel fare il loro mestiere insomma c'è un mondo non vi voglio annoiare però siamo molto interessati quindi grazie di questa competenza di queste cose che ci avete detto questa sera grazie credo che competenza la parola che ha portato Giovanni sia veramente la cosa più importante che dobbiamo valorizzare l'assessora Chiara Foglietta l'assessora all'innovazione se hai voglia anche tu di dirci quello che allora non so neanche da che parte cominciare con tutti gli spunti con tutti gli spunti di riflessione che avete avete dato parto dal fondo e faccio una battuta quindi possiamo dire piazza baldissera un deep fake quindi non esiste in realtà perché tra le delego anche la viabilità la mobilità e i trasporti per questo ho fatto questa battuta ne discutevo prima con Giorgio faceva molto ridere allora io dico sempre una cosa nella vita sono una dottoressa di ricerca in ingegneria biomedica ho fatto la tesi di dottorato sull'intelligenza artificiale quindi più o meno so ormai non pratico più da tanto faccio l'assessora da un anno e uno dei primissimi progetti in cui mi sono imbattuta era proprio l'utilizzo di intelligenza artificiale sulle telecamere le telecamere che andavano a fare videosorveglianza in città questa è una città che non ha ancora un regolamento municipale per la videosorveglianza numero uno due le telecamere poteva esserci il rischio che fossero telecamere cinesi non so quanti di voi abbiano visto report in particolare le telecamere di Fiumicino allora quando io ho recuperato questo progetto ho fatto una cosa molto semplice l'ho bloccato ho detto guardate per me non so esattamente la sceriffa della città che mi ha mettere le telecamere dappertutto ho detto però proprio far sì che venga studiato il metadato che come diceva lui è il tasto destro proprietà dei dati del cittadino perché un piccolo insieme del dato biometrico ecco magari non siamo noi come città essendo noi titolari al trattamento dei dati proprio così tutelati perché basta che arrivi Marzia Camarda e dice ma che dati andate a controllare perché andate a studiare il comportamento predittivo del cittadino che magari si è dimenticato il portafoglio torna in ufficio poi lo rifà a 100 metri perché è molto sbadato allora ho iniziato a creare questa sorta di tavolo che si autogestisce si autoconvoca in maniera più più o meno sovente proprio per parlare di etica quindi se hai piacere ogni tanto di venireci a dare il contributo mi fai davvero un gran favore di esperti di pubblici amministratori di funzionari di avvocati che hanno piacere di dare una mano a questa povera assessora ogni tanto si trova tantissime tecnologie tra le mani tantissima intelligenza artificiale il digitale che è importantissimo ma come dico sempre e lo dico da ingegnera che maneggia sul campo tutti i giorni l'intelligenza artificiale le tecnologie l'innovazione vanno gestite a priori bisogna mettere dei paletti più o meno stringenti bisogna disegnare un perimetro più o meno vicino all'uomo sembrano frasi fatte ma quando poi ti trovi dall'altra parte cioè quando tocchi la vita con mano dei cittadini hai l'onero l'onore di amministrare la cosa pubblica capisci che quello che diciamo qui è bellissimo ma che il cittadino ha dei problemi molto diversi da quelli di cui abbiamo parlato stasera perché purtroppo per lui la tecnologia serve se gli serve se gli serve scusate il gioco di parole a migliorare la sua qualità della vita e quindi questa sera abbiamo toccato degli argomenti che sono importantissimi però io quello che chiedo sempre a tutte le persone che bussano alla mia porta che incrocio tutti i giorni sul mio cammino è sempre di guardare che l'obiettivo sia la tutela del cittadino la tutela del suo dato perché chi è responsabile del trattamento dei dati sa cosa voglio dire e sa che quello deve essere il faro che il miglioramento della qualità della vita deve essere alla base sempre dell'utilizzo della nostra tecnologia perché se no parliamo tanto di quello che viene definito insomma area fritta quello che nel mio lavoro viene definito un po' così però mi raccomando che insomma l'obiettivo finale sia sempre la tutela del diritto e mai insomma parlare di cose che purtroppo poi in un secondo momento non lo siamo in grado di gestire grazie grazie vi ringrazio direi che sono le 10.40 quindi libererei il pubblico è chiaro che le cose di cui abbiamo parlato pongono tantissime questioni per noi come cittadini come cittadine per noi come imprenditori e imprenditrici ovviamente anche come avvocati e professionisti è un tema aperto sono contenta che oggi abbiamo iniziato ad affrontarlo uno degli obiettivi di ICI dell'associazione è proprio quello di continuare a creare formazione consapevolezza su questi temi perché solo se li conosciamo bene li possiamo gestire visto che parlavamo di questo vi ringrazio ringrazio i nostri relatori e le nostre relatrici vi ricordo il secondo appuntamento 23 gennaio 2023 su creatività e intelligenza artificiale parlando proprio di tutti i punti quindi approfondiremo i temi che abbiamo un po' sollevato oggi per vedere quali sono tutti i punti della filiera del processo di produzione del contenuto in cui l'intelligenza artificiale agisce quindi vi ringrazio molto buonanotte grazie a tutti 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 grazie a tutti